Bentornati carissimi amici in questa bellissima spiaggia da Punta Marina Terme, questa spiaggia che prenderà vita l'alto 13 di giugno con Insieme a te. Ciao Deborah. Ciao Tissiana. Allora abbiamo fatto questo cammino con Deborah per sapere sempre di più di questa bellissima associazione, di questa grande idea, nata però da poco, un'associazione davvero giovane perché appunto è nata nel 2017, giusto? Sì, questo è il terzo anno che apriamo la spiaggia. Ogni anno un pochettino per volta perché come si dice i passi vanno fatti in base alla propria gamba, per cui il primo anno si è partiti per un mese per capire se si poteva essere adatti a fare una cosa di questo genere, che è un progetto importante. L'anno scorso due mesi, quest'anno di più. È poco che c'è questa associazione ma sicuramente i ricordi e le emozioni sono tante, voglia di raccontarcene qualcuna? Sì, questo potrei stare ore e ore a raccontare di ognuno di loro, proprio perché poi il primo anno è stato solo un mese ma io sono stata presente ogni giorno di quel mese e quindi ho saporato ogni famiglia, ogni ospite e porto di loro un ricordo bellissimo, di ognuno di loro. È stato così anche l'anno scorso, è stata un po' meno presente perché lavorando avevo un po' più di difficoltà ma io, come credo tutti gli altri volontari, portino dentro il proprio cuore ogni esperienza di ogni ospite legata a loro. Poi ovvio che ci sono volontari che esaurano rapporti con certi ospiti e viceversa perché magari si trovano allo stesso periodo. Io sì, potrei fare mille nomi perché veramente ogni ospite a me ha dato veramente tanto. Sicuramente il primo anno è stato il primo anno, ancora adesso mi commuove a pensare ai primi bagni che abbiamo fatto con la nostra litista, che è una ragazzina qui di Marina di Ravenna, che nonostante abitasse qui a Marina di Ravenna non poteva più fare il bagno e quindi per noi è stata sicuramente una delle più grandi conquiste, il suo primo bagno, il bagno di Fabio, anche lui è malato comunque di islamico, comunque di mio marito. Tanti bagni sono stati importanti, uguali anche l'anno scorso, famiglie che venivano da Milano, da Soncino, che percorrevano comunque chilometri e chilometri per poter fare un bagno in mare, per poter passare una settimana con la propria famiglia. A noi regalavano veramente tanto. Anche se loro dicono che il regalo è stato lo che noi abbiamo fatto a loro, io ribadisco sempre che adesso io che la vivo, io l'ho vissuto sia da familiare che da volontario e quando andammo a fare il bagno con Dario vedevo i volontari commuoversi e dicevo ma com'è possibile? Cioè, pensavo fosse più grande la mia emozione. Ora che la vivo dall'altra parte capisco che veramente l'emozione vista anche dai volontari è veramente molto grande. Perché è davvero grande per me quello che stiamo facendo. Io tutti i giorni mi batto per questa cosa qui perché io credo che stiamo facendo una cosa molto grande, ma non solo per gli ospiti, è grande anche per chi la vive come volontario. Per quello ci tengo sempre che comunque questa cosa qui non venga vista magari nel modo sbagliato, ma sia vista per quello che è, nel modo trasparente possibile. È quello che noi cerchiamo di fare. Regalare, come dice sempre Deborah, una settimana nella normalità a chi nella normalità ha già un po' di tempo che non vive. Sono sicuramente parole molto toccanti, credo che tocchino anche voi amici da casa che si evinca questa emozione, però la cosa bella, perché ho avuto l'opportunità di provarla, ecco perché quest'anno, il primo anno di questo grande progetto, cioè Io ballo per te, di Enerjoy, è stata scelta insieme a te. Perché davvero, per puro caso, io mi sono imbattuta l'anno scorso in questa realtà, ne sono rimasta innamorata, e si respira un'aria, gioco, divertimento, festa, stare insieme, per forse sdrammatizzare quello che accade. Assolutamente, ma è una cosa che poi a noi viene molto naturale, nel senso non c'è bisogno di cercare di sdrammatizzare, perché vedo che effettivamente viene tutto naturale. A volte noi diciamo la famosa allergia di punta marina, che è la commozione, ma quella è una cosa che ci sta, nel senso si vive di questo, di emozioni, quindi secondo me è una cosa bellissima, proprio perché, io dico sempre, nel momento della sofferenza, le persone diventano molto trasparenti, e quindi sono anche molto più facili da leggere, la cosa bella è questa, secondo me, perché in ognuno di noi poi viene fuori quello che realmente è, è anche proprio nel suo bene. Sicuramente avrete fatto un giro sui social, soprattutto la loro pagina Facebook, l'associazione Insieme a Te, e la cosa più bella che ho notato l'inverno scorso, è che postavano le foto del braccialetto dell'associazione Insieme a Te, con su scritto, e siamo arrivati anche qua, da Londra, da tutti i paesi. Sì, il nostro braccialetto, come questa è poi un'idea di io posso, è che noi abbiamo preso da loro, nel senso che il braccialetto è il nostro simbolo, e la cosa bella è che quando uno va fuori, ovunque va, si porta sempre dietro con se il braccialetto insieme a te, quindi insieme a te poi in realtà sconfina ovunque, va dappertutto. Ed è stata bellissima questa raccolta, quindi vi invito davvero ad andare sui loro social, vi invito a chiedere informazioni, ma tanto Deborah comunque, che è stata con noi in tutte queste puntate, è diventata il nostro punto fisso, simpatico, e comunque molto piacere, della puntata, ci ha raccontato di tutto quello che è successo in questa associazione, di tutto quello che succederà, perché comunque non si ferma qui, i progetti sono davvero tanti, quindi vi invito a cercarla sui social, a venire a respirare quest'aria particolare, ovviamente senza preoccuparvi troppo di questa allergia, che può esserci appunto a Marina Terme. Deborah, grazie davvero, è stata una grande impresa, sarà una grande impresa, nata davvero da un forte dolore, ma che dà tanta gioia, e che sicuramente darà tanta gioia sempre. Io vi aspetto davvero tanti, perché quest'anno dobbiamo fare tantissimo, dobbiamo regalare un assegno gigantesco a questa associazione, perché se la merita davvero. Deborah, grazie. Grazie a voi, volevo ringraziare, so che oggi è l'ultima puntata, sicuramente Tiziana che ci ha dedicato tutto questo tempo, che per noi è preziosissimo, perché poter parlare della nostra associazione è importante, perché possa arrivare a più persone. Chi viene da lontano è proprio perché ci conosce attraverso comunque i social, e quindi è importantissimo questo canale. Quindi grazie di cuore per questo grande progetto che state facendo per noi, perché regalerà ancora sorrisi ai tanti ospiti. Quindi grazie Tiziana, e grazie per la pazienza a Max, che ha fatto tutte le riprese che ha fatto, è il nostro operatore che voi non vedete mai. Un grazie di cuore, noi vi aspettiamo numerosi, perché sarà una grande estate di ballo e di musica, e non solo, insieme a te. Ciao, alla prossima. Grazie, insieme a voi.